Maresciallo, maresciallo, maresciallo su Guagliarù, Guagliarù che piacere ti avrei io sono molto addolorato sono due mesi che stai a casa ho saputo del tuo incidente ti sei struppiato assai 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 eh vabbè non ti preoccupare non ti preoccupare certo la spalla ti tornerà a posto il gomito la gamba ma quello che ho saputo che è grave il fatto dei testicoli non ti eri più testicoli non me lo ricordate non ci voglio pensare più anzi sapete che vi dico sono venuto a posto domani mattina voglio venire a lavorare come tutti gli altri domani mattina è l'8 ma venite a casa bravo bravo mi riempite il cuore di orgoglio grazie fate una cosa Guagliarù venite alle 10 e 10? e perché noi è l'8 come tutti gli altri? Guagliarù noi dalle 8 alle 10 ci grattiamo il palmo qui che ho fatto chi non deve lo trovare? ti sono stato proprio il corpo non è un grosso io ti sono stato anche qua ma che buoni ma che buoni Ma che gusti, lo che sarebbe a qua? Ma che bontà, ma che bontà? Ma che cosa vuoi dire qua? Ma che bontà, ma che bontà? Ma che gusti, lo che sarebbe a qua? La mia figlia da una maschilla, mi stai scato, mi stai scato, mi stai scato. Esposito, Esposito! Che c'è capitano? E che avete fatto tutto questo tempo pure qua? Capitano, sono stato a sentire voi, sono andato a lavorare per il quartiere, qua c'è sempre traffico, traffico, immagino una gulla nata. Allora io ho pensato bene di buttare aglio di qua, aglio di là, aglio per tutte le parti. E che c'è secco l'aglio con il traffico? Capitano, mi meraviglio di voi, l'aglio fa bene alla circolazione. Maresciallo, una brutta notizia. Che è successo? Quagliaro, che sa? Mi è arrivato un pax di mia madre a Bologna e sta morendo. La vostra mamma a Bologna sta morendo. E beh? Ma voglio voler prima che a me. Ma vi aspetti, avete ragione, mi metto subito all'opera per voi, chiamo subito. Pronto? È l'aeroporto? Sì, è la caserma dei Carabinieri. Vorrei un'informazione urgente. Sì, sì. Eh, volevo sapere un volo Napoli-Bologna quanto tempo impiega? Facci da in pressa in pressa. Un attimo. Guagliarulo, io devo uscire una commissione importante. Fatemi una cortesia. chiamate sui disgraziati dei cammini e gli dite che viene urgentemente a colgere i cammini e tutti gli scaldamenti. Che qui in caserma fanno freddo che si spacca nell'ugna. E figuratevi adesso al paese mica che comincia la neve perenne. Guagliaruno ha cominciato, ma perché c'è la neve non ha commencio perenne. Una nonna come te, ti giuro non l'ho vista mai, bella stupenda come sei, ti va di uscire insieme a me. Letto e labbra sai, ho tanta voglia di passare, passare con te. Una notte d'amore. Tutto e stanosce tosde halo estu amor Al ritmo di flamengo batte il mio corazón Mi sembra tutto magico, ti stringi forte a me Diventa tutto un suono ed è fantastico Sulla playa, no Tutto e stanosce nosde halo estu amor Oltrepassiamo i limiti, non ci fermiamo più Togliamo quei vestiti, nudes e molto di più La sabbia che ci copre di salsedine, la smonita sei